Grazie signor Presidente, soltanto per ricordare che oggi ricorre il terzo anniversario della strage di Orlando quando nella notte appunto tra l'11 e il 12 giugno di tre anni fa un uomo armato entrò in una discoteca, il Pulse una discoteca frequentata in particolare dalla comunità LGBT e nel momento in cui entrava in questa discoteca c'erano 320 persone, alla fine di questo attacco armato ne morirono 49 e 58 rimasero ferite si trattava per la maggior parte di ragazzi che erano lì appunto per divertirsi, per passare tempo con gli amici in modo spensierato che invece trovarono la morte in un attacco terroristico che è uno dei peggiori tra quelli che sono accaduti nel territorio degli Stati Uniti in questi giorni siamo nel mese di giugno, si celebra il Pride in tutta Italia e in molte città del mondo è il mese che è dedicato all'orgoglio LGBT, orgoglio che vuol dire semplicemente la richiesta di vivere in libertà, in dignità e nel rispetto essere riconosciuti per quello che si è e per l'amore che si prova per le persone che sono intorno a sé e di poter avere le medesime opportunità che ha ciascuno di poter realizzare il proprio potenziale festeggeremo tra poco i 50 anni da Stonewall che quando il 28 giugno appunto di 50 anni fa le persone che occupavano questo locale di New York si ribellarono all'ennesima vessazione della polizia new yorkese e da lì è cominciato il movimento di riscatto dei diritti di questa minoranza che è una minoranza trasversale, importante ci sono omosessuali in tutti i mestieri, in tutte le famiglie, in tutti i cetri sociali sono persone che contribuiscono come tutti alla grandezza, al reddito e alla crescita del nostro paese e spesso non viene riconosciuto perché magari si tratta di una minoranza che non necessariamente è immediatamente visibile, ma quella notte furono resi visibili, quei 49 morti e quei 58 feriti e io penso che meriti un momento di riflessione da parte nostra, di ricordo, qualcosa che è successo lontano da noi in Florida negli Stati Uniti ma fu sicuramente un attacco vile come tutti gli attacchi terroristici ma che ebbe un senso ancora maggiore perché si concentrò su una minoranza diciamo indifesa in quel momento e che aveva soltanto appunto voglia di celebrare un momento di festa all'interno di un percorso di affermazione della propria libertà e della propria dignità. Grazie Presidente.